Educazione alla cittadinanza, una mattinata alla scoperta del funzionamento del Consiglio regionale. Visita didattica per 43 alunni di prima e seconda media dell'Istituto Rocco Scotellaro di Tricarico. Un'iniziativa che rientra nel programma cittadinanza attiva per raccontare ai cittadini del domani il mondo delle istituzioni regionali. Tante le curiosità e le domande sottoposte al Presidente del Consiglio regionale Vincenzo Folino. Dal liter di una legge alla differenza tra legge, decreto e atto amministrativo. Ma anche tematiche come petrolio, centrali a biomasse di tricarico, raccolta differenziata, turismo nei piccoli centri, infrastrutture e consulenze esterne. I ragazzi devono prendere coscienza della vita politica del nostro paese. Renderli partecipi della vita del proprio paese penso che sia molto importante. anche nella loro teneretà. Grazie. Grazie a tutti